Lo Stato italiano ha circa 40 milioni di presenze tra febbraio e marzo e questi 40 milioni di presenze sicuramente non ci saranno più, mancheranno al saldo del fine anno. Il danno economico per l'economia italiana e toscana, soprattutto per il sistema dell'accoglienza, rischia di essere altissimo. A causa dell'emergenza coronavirus e dei casi che sono scoppiati in Italia, stanno fioccando le disdette in alberghi e agriturismi. Sì, le stiamo riscontrando sia nel breve periodo, quindi imminente nei giorni che stanno venendo, e le stiamo riscontrando purtroppo anche durante la stagione intensa, cioè quindi luglio-agosto. È un dato che comincia a preoccuparci, evidentemente si sta verificando in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, e stiamo vedendo anche un altro dato preoccupante, che è quello delle mancate prenotazioni, cioè si sono sostanzialmente interrotte. Le stime sono preoccupanti perché sono crescenti, da un punto di vista quantitativo per ora siamo intorno a un 20-30% di disdette rispetto alle prenotazioni che abbiamo. Ma la cosa che preoccupa è che già in questo periodo cominciavano ad arrivare molte più prenotazioni, per cui se la cosa continua così il danno diventerà importante, supererà anche al 50-60%. Le disdette da dove arrivano? Arrivano da tutte le parti, sia dal nord Italia, di persone che sono in difficoltà ad uscire, ma arrivano anche dall'estero, perché purtroppo ci leggono come paese Italia e non come Toscano Arezzo, e questo evidentemente fa la differenza, cioè fa mettere le persone in difficoltà nel poter confermare una prenotazione. Un calo che si registra anche nei bar e nei ristoranti. In genere una serata come quella di ieri sera riesce a fare 200-300 persone, ieri sera incredibilmente abbiamo fatto un tavolo da 12 e poi 6 o 7 avventori. Cioè praticamente fuori dal centro è stato un disastro. Il pericolo è che la cosa si prolunghi nel tempo, perché è proprio quello che toglie l'ossigeno a queste attività. In quel caso lì dobbiamo avere un sostegno, cioè degli sgravi per il settore, perché altrimenti è difficile, è difficile, cioè le prospettive non sono rose assolutamente. Se l'emergenza non dovesse fermarsi, le associazioni di categoria sono pronte a chiedere lo stato di calamità. Io sto andando con i colleghi a Firenze per fare un incontro su questo, probabilmente sia a livello regionale che nazionale, ovviamente siamo orientati nel chiedere sicuramente dei ristori economici, perché il problema sta diventando drammatico. Innanzitutto abbassate i toni, cercate di prenderlo per quel che è, poi come tutti i picchi, come tutti i virus avranno dei picchi stagionali, poi finiranno il picco stagionale e quindi bisogna rimettersi tutti insieme a lavorare per ricostituire, per ritappare i danni d'immagine che abbiamo fatto.